Musica Weeey bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video Io sono Xudair e oggi ragazzi abbiamo un botto di roba di cui parlare e ovviamente riguardanti questi ultimi giorni dell'anno dove anche in Fortnite non mancano le novità ragazzi e le grandi figate che ci regalano quelli di Epic Games Quindi ragazzi nel video di oggi parleremo nel dettaglio di tutte le sfide che incontreremo per questi ultimi giorni oramai ne sono già passate due quindi partiremo dal giorno numero 3 Da oggi vedremo meglio l'evento di Capodanno e sentiremo anche un suono molto molto interessante e vi parlerò di alcuni leaks davvero interessantissimi con immagini skin scoperte nei file di gioco Vi ricordo però ragazzi mi raccomando un bel pollicione in su se ancora non lo avete fatto iscrivetevi in tantissimi al canale per non perdere gli aggiornamenti e soprattutto Attivate la campanella per tenere sotto controllo le notifiche Ma ragazzi prima di addentrarci a Salmone Norvegese nel video volevo farvi la domanda ed è una domanda semplicissima E' arrivato ieri lo schiaccianoci e Cracabella voi quale avete shoppato dei due? Ditemi un po' io guardate sto registrando prima di shopparli ma penso che prenderò lo schiaccianoci Anche se mi piace molto anche Cracabella però penso che prenderò lo schiaccianoci in modo da togliere solo dai piedi perché Almeno abbiamo l'ultima skin leggendaria di Natale che ci mancava Quindi ragazzi cominciamo subito e vediamo tutte le sfide nel dettaglio che incontreremo nei prossimi giorni Abbiamo già visto quella di giocare la modalità creativa Abbiamo da fare ad esempio cercare chest Non sappiamo quanti Hittare un player con una palla di neve ragazzi Palla di neve che potrebbe essere uno dei nuovi oggetti che arriveranno e che saranno dei giocattoli in poche parole Che si potranno sostituire al pomodoro, al pomodoro elegante o al quello che è arrivato questa season O al disco da hockey Destroy snowflakes decoration quindi dovremo anche distruggere le decorazioni dei fiocchi di neve di Natale Quelli che sono appesi che troviamo un po' in tutte le city più importanti Fare danni agli avversari con armi differenti e tante tante altre Vediamo anche un'altra Ringraziare l'autista del bus in differenti match Insomma tutte queste che vedete sono le sfide che incontreremo in questi giorni E dopo le sfide ragazzi Eccoli qua tutti i premi che ci verranno dati Abbiamo già visto ragazzi lo spray del GG Che è quello proprio della prima sfida Ma ce ne sono alcuni bellissimi Tra cui le due schermate di caricamento ragazzi Quella classica di Natale Che è ormai una delle prime schermate di Fortnite E quella l'ha ancora più in fondo Che va a riprendere la prima schermata del trailer Di questa season di Fortnite Ma c'è anche un emote Il take the elf Quindi è lui con il vischio che balla Il take the elf classico E ragazzi la palla di neve Eccola lì di fianco Verrà data come regalo Probabilmente la missione prima Del giorno prima Per avercela poi disponibile Abbiamo ancora degli spray Come questo delle emote Là in alto Ma le robe più belle sono ragazzi Il piccone Che sembra molto simile A quello del Cavaliere Rosso Ovviamente piccone in versione invernale Il mini marauder ragazzi Il backpack con il mini marauder Che è veramente secondo me sarà Troppo troppo figo Deltaplani vari E anche degli Delle emote Nonché ragazzi Come vedete là in fondo Un regalo misterioso Non è ancora stato inserito nel gioco Per evitare appunto Che i leakers Lo scoprissero E sembra che sia La cosa più bella In assoluta La preferita Da uno dei Capoccia Del team grafico Di Epic Games Ovviamente Grande hype E staremo a vedere Ma buttiamoci subito nel dettaglio Molto velocemente A vederle Nel giorno 3 Avremo il team Terror Quindi le 50 Versus 50 Con tanto di mostri dentro E la modalità Baybones In squadra Quindi In questa modalità La mappa Nella mappa Non ci saranno Molte delle indicazioni Che ci sono di solito Quindi ragazzi Si giocherà In squad E paradossalmente Non sapremo Se i compagni Che incontreremo A meno che non stiamo in squad Siano amici O siano Avversari Insomma una modalità Molto molto interessante Il giorno 4 Ragazzi No questo ve l'ho appena Fatto vedere Il giorno 5 Ragazzi Si giocherà in disco domination Bellissima Quella modalità Dove ci sono le discoteche Che dobbiamo conquistare Ballandoci sopra E mantenere E avremo anche La sniper shootout In duo ragazzi Quindi Una delle modalità Limitate Preferite Dagli utenti Di fortnite Dove ovviamente Si gioca solo con i cecchini Per il giorno 6 Un'altra disco domination E una close Encounters in squad Quindi ragazzi La modalità Con i fucili A pompa Andiamo avanti Ragazzi Nel giorno 7 Ci sarà un team rumble Quindi 24 contro 24 Probabilmente Che si vanno a scannare Di prepotenza E tornerà La solid gold Quindi Solo Armi Leggendarie Per il giorno 8 Ragazzi Una nuova Score Royale Quella che avevamo visto Quest'estate Non so se ve lo ricordate Dove vince Chi fa Più punti Chillando la gente Aprendo i chest Prendendo le monete In giro Per la mappa Molto Molto Interessante Anche questa modalità Il food fight Torna per il giorno 9 Ragazzi Una delle mie Preferite Quelle dove c'è Il pomodoro gigante E l'hamburger gigante E i ground games In squadra Come vedete ragazzi In questa modalità Ci saranno Un numero limitato Di materiali E di proiettili Quindi bisogna Utilizzare Le protezioni naturali Per riuscire A vincere E ovviamente Non dovremo Sprecare Neanche un colpo Per il giorno 10 Ragazzi Si torna Nella food fight E si gioca La sneaky silencer Quindi In solo Giocheremo Solo con armi Silenziate Giorno 11 Una close Encounters Quindi Una modalità Con i c'è Con i fucili a points 50 Versus 50 Sarà un degenero E torna La wild west Chi a me sinceramente Non ha mai fatto impazzire Per la 12 Ancora Close counters Nelle 50 Versus 50 E arriva la steady storm In solo Che dovrebbe essere Quella dove la tempesta È molto Più veloce Andiamo al penultimo giorno Dove arrivano Arriva la modalità High explosive 50 Versus 50 Quindi ignoranza Pura Per il giorno 13 Solo esplosivi 50 contro 50 E arriva invece anche La high explosive In squad E chiudiamo ragazzi Con Il one shot Che è l'ultima modalità Nuova Quindi ci saranno Solamente i cecchini Come arma disponibile Non ci saranno Gli scudi Ci saranno Solo le bende Per proteggerci E la gravità Nella mappa Sarà molto Molto Limitata Andiamo avanti ragazzi Velocemente Parlando Del DJ Dog Go Praticamente Abbiamo La Versione Femminile Del DJ Yonder Ragazzi È stata scoperta Da pochissimo Sembrerebbe Proprio questa Ne gira anche un'altra Quindi dobbiamo capire Un attimo Qual è dei due Però ragazzi Tanta tanta Roba Per questa Nuova skin Io non sono un particolare Fan Del DJ Yonder Però diciamo che anche La parte femminile Non è male E chiudiamo ragazzi Con questa Ragazzi La palla da disco Che abbiamo visto ieri Ma voglio farvi sentire Dei suoni Sembrano essere Quelli relativi All'evento Di Capodanno Dovrebbe esserci Questa palla Dal cielo Che scenderà E che sembrerebbe Faccia ballare Tutti i giocatori Per un periodo Di tempo Limitato Ovviamente Evento Dedicato Al Capodanno E al nuovo Anno 2019 Belli sti suoni Tutti a ballare La disco Insomma ragazzi Tanta tanta roba Per questi prossimi giorni Di fortnite Beh ragazzi Io spero che il mio video Vi sia piaciuto Mi raccomando Un bel pollicione in su Se volete supportarmi Iscrivetevi Tantissimi Al canale Noi Ci vediamo presto Ciao Grazie a tutti